salve a tutti su mio canale sono mister cameron oggi con mesh mixer vi faccio vedere come esportare il nostro progetto sembra intuitivo viste che c'è la voce file esporta ma effettivamente se andate a fare direttamente esporta con il progetto in questione che davide golia noterete molti problemi adesso vi faccio vedere cosa succede e come risolvere il problema allora in questo caso ho aperte già il mio progetto e ho comunque il lavoro qui davanti facciamo export file esporta quindi andiamo a scegliere la cartella qui ho la possibilità di esportare le stl in due formati sia in hash che in binario io preferisco binario perché il binario e il file è molto più compresso e mi dà un volume più basso quindi un file più piccolino quindi andiamo a dargli un nome salva ok costituisci perché già avevo un file lo stesso nome che non interessa adesso andiamo a vedere praticamente quello che ha fatto ecco qua se vedete mesh mix ha esportato solo un oggetto e non tutti gli oggetti questo perché non sono andato a dirgli quali oggetti doveva andare a esportare quindi ritorniamo di nuovo al mesh mixer e facciamo l'operazione quindi andiamo in visualizza mostrami tutti gli oggetti una finestra eccolo qui allora andiamo a selezionare quindi con il tasto shift selezionate tutte le parti ci interessano a posto adesso tutte le parti selezionate ripetiamo di un'operazione andiamo a esportare sempre nel formato binario p salva sì a posto ok adesso se avete notato io ho detto a mesh mixer di prendere tutti gli oggetti unigli esportali in stl ma come vedi come vedete il lavoro non è stato fatto correttamente effetti ha trovato un codice un errore di codice perché mesh mixer non è in grado a meno per adesso di unire tutti gli oggetti ed esportali contemporaneamente fosse perché è un problema di del mio compito il processore però ho notato questo problema anche con altri quindi vi faccio vedere cosa fa chiudo andiamo giù ok se avete visto i momenti in cui io ho aperto questa finestra qui ho cominciato a unire anzi a selezionare gli oggetti si è aperto un'altra finestra superiore adesso lo ripeto chiudo qua esco l'elementualità che non la vedete ripetiamo visualizza mostra adesso non è comparso quindi per riottenere la finestra basta andare su edit eccola qui quindi se non compare in automatico come è successo prima potete richiamare con il pulsante strumento edit a noi interessa combina quindi fondi unisci clicchiamo su e aspettiamo che i mesi mix faccia il suo lavoro ecco qua adesso mesh mixer ha unito tutti gli oggetti e gli ha dato un nome voleva essere davido come fionda il nome non è importante importante l'importante che lui abbia effettuato l'unione come dove essere fatta a questo punto possiamo effettuare l'esportazione file e sporta stl viviamo di nuovo p più ovviamente come di tale sì file esportate e vediamo com'è andata a posto come vedete il progetto è stato esportato correttamente unito e senza errori quindi per la prossima volta quando andrete a realizzare il vostro progetto questa è la procedura più comoda e facile e che funziona che io conosca a questo punto vi lascio spero di poter realizzare un altro video in cui vi posso spiegare qualche altra funzione di questo bel programma e nel frattempo voglio ricordare di lasciare un like su questo video di condividere il video e di iscrivervi se non l'avete fatto arrivederci